Sono piovuti su finale oltre 200 millilitri di pioggia, cioè diciamo una precipitazione di livello monsonico. Grazie a Dio non abbiamo avuto problemi esondativi, nel senso che i fiumi hanno tenuto. I problemi che abbiamo avuto con l'acqua erano legati più che ai fiumi veri e propri, quindi sciusa, aquile e pora, agli affluenti che non avevano la possibilità di scaricare perché negli anni passati sono stati tombinati, sono stati trasformati, sto parlando degli anni 60, trasformati in strade e ovviamente poi quando ci sono fenomeni come questo si tornano ad essere quelli che erano prima, cioè dei fiumi. Adesso abbiamo a che fare con le frane, c'è questo che però di tra tutti forse è la frana meno pericolosa. Quello che ci preoccupa maggiormente è una in località Castelletto, una in località Verzi, sulle quali siamo già intervenuti comunque, nel senso che la Verza adesso è stata riaperta alla viabilità, quindi si può accedere. Poi c'è tutta la zona di Cornei, sostanzialmente dalla cartiera fino al bivio per Boragni, c'è un'intera montagna che si sta muovendo. Io faccio l'avvocato, non sono un geologo, quindi non sono in grado di fare da questo punto di vista delle diagnosi precise, però io questa mattina sono passato con la pattuglia, era preoccupante la quantità di materiale che è caduto. Poi c'è un'altra frana sulla strada provinciale per Roccofeglino, c'erano due frane sulla 490 per arrivare all'autostrada che sono state rimosse, ce ne sono altre due in località Bracciale, cioè tra Gorra e Verzi. Sì, certamente, adesso la priorità sarà la ripristino della viabilità, la messa in sicurezza dalle zone più pericolose, la verifica che non vi siano pericoli per le persone, abbiamo Varigotti che è isolata, di fatto, cioè oggi era inaccessibile sia da Noli che da Final Marina, l'unica strada percorribile era questa qua da Isasco, intanto è vero che l'abbiamo resa percorribile soltanto ai residenti. Abbiamo avuto anche problemi di approvvigionamento idrico, qui a Pino abbiamo messo il riservatore dell'acqua, abbiamo ripristinato il collegamento dell'acqua potabile al Borgo Sport, nella zona di Final Borgo dove il tubo era stato tranciato dal fiume ieri, oggi è stato ripristinato. Diciamo che stiamo, nell'emergenza, stiamo facendo quello che è necessario fare. Grazie a tutti.